Buone notizie per le alici di Menaica. Per quest'anno i pescatori potranno continuare la tradizione. Mi sono messo in contatto con il governo, che nello specifico altri non è che il ministro Maurizio Martina. In pochissimo tempo mi ha dato la possibilità di affrontare, discutere ed avviare a soluzione il problema della tradizionale pesca della Menaica. Con grande piacere posso dire che questa volta la burocrazia della pubblica amministrazione rappresentata da persone competenti e capaci del MIPAF è stata a servizio dei cittadini, come dovrebbe sempre essere. E' quanto scrive il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, sulla sua pagina Facebook per quanto riguarda la situazione inerente alla pesca degli alici di Menaica, che poche settimane fa allarmò i pescatori a causa dei controlli dei finanzieri. Nell'incontro di giovedì al MIPAF, continua Pisani, abbiamo tracciato un percorso importantissimo che dopo anni vede valorizzata la pesca artigianale e che consente di risolvere in via provvisoria per quest'anno il problema della Menaica, ma che nel medio e lungo periodo trasforma questa tecnica di pesca in un'opportunità per il futuro della nostra terra, che potrebbe portare a raggiungere il traguardo dell'IGP attraverso un progetto di ricerca da sviluppare tra pescatori MIPAF e comune di Pollica.